Siamo lodati Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedica e la santa vergine che protegga Audentur Iesus et Maria do il bentornato e il benvenuto a questa nuova puntata del Catechismo Romano del Consiglio di Trento uno dei cicli di catechesi a cui personalmente il mio cuore è particolarmente sensibile e attaccato perché come tante volte ho avuto modo di evidenziare e vorrei continuare a sottolineare la formazione dottrinale specialmente in questi tempi un po' complicati è quanto mai importante vorrei dire importantissima imprescindibile per poter navigare nelle acque tormentate dei nostri tempi un po' particolari quindi do il benvenuto sia a chi segue le dirette su vari canali ricordo che queste categorie sono sempre in dirette in contemporanea su il mio canale youtube sul mio profilo instagram e su quello di tiktok e poi sono usufruibili in differita in versione video sul canale youtube la diretta integrale resta a disposizione degli abbonati mentre sulle piattaforme podcast dappertutto volevo anche informare una cosa specialmente per gli utenti di android e comunque per quelli che seguono i podcast che google podcast entro luglio chiuderà e google permette la possibilità di spostare i podcast da google podcast a youtube per chi possano essere sentiti anche cioè la piattaforma podcast che userà google sarà quella di youtube music che come sapete è disponibile in versione gratuita così come youtube però con interruzioni pubblicitarie che non dipendono da me quindi perché i podcast non ci sono pubblicità a differenza del canale youtube ma ce li mette youtube per non avere pubblicità su certe piattaforme scusate la premessa bisogna acquistare la versione premium se uno prende youtube premium più youtube premium c'ha tutta la musica che vuole illimitata su youtube music e c'ha tutti quanti i video a disposizione su youtube senza pubblicità né prima né durante né dopo questo perché non si sappia ecco perché quindi sia chiaro quindi io sto progressivamente trasferendo l'ho già fatto con un po' di podcast tutto da google podcast a youtube podcast entro luglio sicuramente avremo finito perché cerco di farne almeno uno al giorno di podcast con l'aiuto dei collaboratori che poi esisteva non li può macello comunque dovremmo finire a breve adesso veniamo al catechismo romano e cominciamo questa sera vedremo faccio prima un piccolo piccolo presentazione i paragrafi che vedremo si chiama di mortalità dei corpi risorti doti dei corpi risorti frutti salutari dell'articolo l'articolo che segue è credo la vita eterna vediamo se lo introduciamo oppure se ci fermiamo con questi tre paragrafi che hanno già comunque una sua una bella corposità allora immortalità dei corpi risorti paragrafo 136 rimane ora da far comprendere fedeli che sebbene per quanto ne costituisce la sostanza debba risuscitare l'identico corpo che ha subito la morte il suo stato però sarà molto differente vorrei di nuovo l'abbiamo già fatto la volta scorsa però sottolineare ancora un punto vedete questo corpo che mi sta vedendo in diretta video come il vostro questo corpo ecco perché noi cristiani altro che noi abbiamo un senso altissimo del corpo e della corporeità questo corpo è la materia della mia anima che ne è la forma sostanziale la degenerazione del nostro corpo le misere del nostro corpo le malattie del nostro corpo tutte quante gli stati di mortificazione che il nostro corpo attraversa su questa terra non esclusi gli inestetismi fisici che ne so estetici i cattivi odori tutto quello che di meno edificante ci può essere nel nostro corpo tutto fino al culmine della morte che è proprio quanto di più innaturale possa esistere non avremmo nemmeno saputo che cosa sia se non ci fosse stato il peccato e soprattutto non sarebbe esistita quella cosa che è lì come dire il contronatura per antonomasia che è la morte corporale cioè la separazione della nostra anima dal corpo che diventa cadavere cioè vedere un corpo di un morto è l'orrore assoluto ma quella non è roba che viene da Dio la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo sapienza 2 24 e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono ma la morte che San Paolo definisce giustamente il salario del peccato il salario del peccato che significa del peccato originale e anche del peccato attuale pecca pecca pure sappi che il salario del peccato cioè il salario sapete cos'è uno lavora e il salario gli è dovuto a titolo di giustizia quindi ciò che è dovuto al peccato è la morte e in questa vita terrena di ciò che dell'orrore che la morte è in quanto morte fisica il peccatore ne fa esperienza con la morte dell'anima con la morte del cuore che se la porta dietro dovunque vada tutti i peccatori convertiti nessuno escluso ma se ci facessero attenzione anche i peccatori non convertiti non è che comunque devi fare un disegno hanno vissuto hanno conosciuto hanno sperimentato che è una menzogna il fatto che se pecchi sarai felice d'accordo che se fai la vita al sesso droga e rock and roll come si diceva una cinquantina di anni fa che bella vita ma qual è bella vita è una vita da schifo è l'inferno anticipato non è una bella vita perché se fosse una bella vita guardate che il più contento di tutti di farci fare una bella vita è il domine Dio il domine Dio aveva pensato per una bellissima vita anche qui perché l'uomo è stato l'uomo appena creato è stato posto nel paradiso terrestre che non era come è questo pur rimanente bel mondo in quanto creatura di Dio era molto meglio in ogni caso l'identico corpo che ha subito la morte non dimentichiamo mai questa cosa il suo stato però sarà molto differente cioè eccolo a parte infatti le altre circostanze in questo sta la differenza dei corpi risuscitati da quello che erano prima mentre allora erano soggetti alle leggi della morte tutte le leggi della morte che ho cercato di sintetizzare non solo della morte fisica dopo richiamati a vita a prescindere dalle differenze tra buoni e cattivi tutti saranno immortali adesso qui bisogna mettersi in testa bene una cosa che è meglio mettersela in testa adesso prima che sia troppo tardi cioè chiunque ascolti queste parole deve sapere una cosa è impossibile non lo puoi fare annientarti sparire nel nulla cessare di essere non è possibile capito e non soltanto perché quando sarai morto sia che ci credi sia che non ci credi l'anima sopravviva anche perché sia che ci credi sia che non ci credi verrà un bel giorno in cui il tuo corpo risusciterà pure se stai all'inferno voi immaginate che significa pensiamo la peggiore delle delle ipotesi no la risoluzione del corpo di un dannato cioè questo per tutta l'eternità sarà tormentato e soffrirà anche nel corpo ah ma all'inferno non c'è la legge sull'eutanasia non c'è non ci stanno leggi sull'eutanasia non ci stanno voglio liberarmi voglio togliermi la vita no no non si può più non lo puoi fare capite quegli imbecilli che vogliono fare l'eutanasia qui adesso fai 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 poi vedrai se dopo la risoluzione della carne tu che hai fatto l'eutanasia che certamente in paradiso non ci vai si andrà tutto bene se puoi farlo un'altra volta vedrai vedrai buon divertimento eh no perché la sofferenza è indegna dell'uomo però ci vuole la dignità che cosa si si vai gliela a spiegare ai diavoli e ai tormenti che che daranno ai dannati sto concetto vai gliela a spiegare ora questa meravigliosa reintegrazione della natura proseguo la lettura fu meritata dalla grande vittoria che Cristo riportò sulla morte come ci insegnano le sacre scritture sta scritto infatti egli precipiterà la morte in sempiterno Isaia 25 8 e ancora ancora più bello Osea 3 14 sarò la tua morte o morte spiegando tali parole l'apostolo dice la morte l'ultima nemica sarà distrutta e in San Giovanni leggiamo d'ora in poi non vi sarà più la morte Apocalisse 21 4 il versetto precedente era primo corinzi 15 26 amici se qualcuno sa dirmi qualcosa mi è apparso una scritta su tiktok che la mia live contiene materiale che da questo momento in poi sarà riservato a un pubblico adulto ecco scritto restrizione qui che è successo qua facciamo ricorso va ok vabbè sto facendo un ricorso perché è stata messa la live soltanto per un pubblico adulto mamma mia che stanno facendo i discorsi osceni vabbè era molto conveniente proseguo che il peccato di Edamo fosse del tutto vinto per merito di Cristo nostro Signore il quale distrusse l'impero della morte e questo è anche conforme alla divina giustizia perché i buoni potessero godere per sempre una vita peata i cattivi invece dovendo scontare pene eterne vedete pur cercando la morte non la potessero trovare desiderassero di morire e la morte ostinatamente fuggisse loro questa è mortalità sarà comune buone e cattive amici cari cioè io devo fare devo fare devo assolutamente quello che Dio vuole cioè dire queste cose che non me le sono inventate io è la rivelazione questa cioè amici il concetto di rivelazione è una cosa importante cioè queste cose qui sono delle informazioni è chiaro che sono informazioni a cui bisogna prestare un atto di fede ma la fonte da cui derivano è Dio per cui ribadiamo un pochettino il concetto dei rapporti tra fede e scienza sono più sicure queste cose che non che 2 più 2 faccia 5 che non che 2 più 2 scusate fa 4 perché è più facile che 2 più 2 faccia 5 che non che queste cose non siano vere questo è il rapporto che c'è tra la fede e la scienza l'ho già detto 100 miliardi di volte 100 miliardi a numero di perbole tante volte ma si ricordi che il problema Galilei è solo questo il rapporto che c'è tra fede e scienza qual è la verità più sicura che esiste quella scientifica semplicemente perché in questo mondo è incontrovertibile no no perché queste cose non le dico io il catechismo non se l'è inventato il papa che l'ha promulgato o i vescovi che l'hanno scritto o gli autori che l'hanno scritto qui ci hanno messo le mani anche San Roberto dell'Armino che io sappi sul catechismo romano un grandissimo di prima categoria ma non è altro che una esplicitazione in forma discorsiva delle verità rivelate che la Chiesa ha ricevuto dalla Sacra Scrittura della tradizione certe per cui è meglio crederci prima perché se vai a fare una brutta fine evidentemente che non è augurata a nessuno Gesù Cristo non è risolto dalla morte pensando adesso è risolto dalla morte così risolveranno anche i dannati così così se la pagano per tutta l'eternità anche col corpo non è certamente cioè non è certamente questa la sua intenzione principale e primaria Gesù Cristo è venuto si è incarnato ha sofferto è morto e ha distrutto la morte perché? perché tutti potessimo andare in paradiso per quanto fatto da lui il problema è che purtroppo per quanto risposto da noi così non sarà ma la risurrezione sarà per tutti il suicidio sapete che è un atto satanico per l'antonomasia è il diavolo l'istigatore a tutti i suicidi perché il signore della morte è il diavolo ma il suicidio non è la soluzione dei problemi anche se alcune persone poperine fanno questo gesto in uno stato di assoluta disperazione per cui lasciamo a Dio il giudizio particolare di quelle persone ma il fatto in sé è un fatto satanico è una soluzione falsa anche a problemi e difficoltà enormi che possano esserci nella vita terrena ma questa non sarà la soluzione posteriore dopo la risurrezione della carne non ci stanno suicidi non ci stanno eutanasie non c'è possibilità chiaro? ora mi avviso è saggio è prudente su cose così serie pensarci adesso perché adesso è il momento di pensarci dopo sarà tardi finita la vita terrena game over rien ne va più it's done finito non c'è più tempo è tardi quindi meglio farlo adesso bene paragrafo 137 doti dei corpi risorti e cominciamo chiaramente dalle buone notizie i corpi redivivi dei santi avranno fulgite e meravigliose facoltà per le quali diverranno molto più nobili di quello che furono le più notevoli sono quelle quattro che sono dette doti basta aprire la somma teologia di sant'ommaso d'aquino e sono rivelate dai padri già da loro sulle orme dell'apostolo le doti dei beati si trovano adesso lo trovo al volo così c'è di riferimento nella prima lettera di san paolo e corinzi nel capitolo 15 nei versetti 42 fino a 44 io leggo i versetti poi qui c'è la spiegazione no così anche la resurrezione dei morti si semina corruttibile e risorge incorruttibile 1 si semina ignobile e risorge glorioso 2 si semina debole e risorge pieno di forza 3 si semina un corpo animale e risorge un corpo spirituale 4 queste sono le 4 doti dei corpi risorti ovviamente sono stati definiti sono state qualificate la prima dote è l'impassibilità dono e dote la quale farà sì che essi non possano soffrire niente di molesto o essere colpiti da dolori o incomodi bello eh guardate che non sono favolette queste qui eh dice oh guarda adesso facciamo un pochino di favolette così tu fai il bravo su questa terra eh ti ho raccontato la favoletta e così tu non queste non sono favolette perché sarà esattamente così infatti non potranno a essi nuocere né la violenza del freddo né l'ardore del fuoco nell'impeto delle acque vedete si semina corruttibile e risorge incorruttibile qui viene citato San Paolo viene seminato dice l'apostolo nella corruzione e risorgerà nella incorruzione gli scolastici gli scolastici tra cui ovviamente il grande San Tommaso d'Aquino l'elemento di spicco della teologia scolastica la chiamarono impassibilità invece che incorruzione per esprimere quel che è proprio del corpo glorioso poiché beati non hanno l'impassibilità in comune con i dannati perché i corpi di questi sebbene incorruttibili possono patire caldo freddo e ogni dolore capito bene allora la caratteristica fondamentale è l'incorruttibilità incorruttibilità significa che non ti puoi più corrompere quindi non puoi più morire ma i dannati avranno solo questo che per loro sarà una croce i beati non hanno solo l'incorruttibilità perché voglio vedere io vorrei non morire mai se ho una vita meravigliosa supponiamo un ababbo con tutte le cose con tutti gli yacht con tutte le cose facciamo un po' di esempi di passeggerissimi piaceri terreni però se uno c'è una grande vita è chiaro che non vorrebbe morire mai se uno c'è una vita disperata non potrebbe morire allora i beati non sono semplicemente incorruttibili cioè la questa caratteristica applicata al beato giustamente gli scolastici l'hanno chiamata non è una mera incorruttibilità è una incorruttibilità che comporta l'impassibilità quindi la non soggettabilità la non ha soggettabilità nessuna forma di sofferenza e di dolore allora sì che bella i dannati hanno soltanto l'incorruttibilità secondo viene poi lo splendore si semina ignobile e risorge glorioso scrive San Paolo per il quale i corpi dei santi rifugieranno come il sole lo attesta in San Matteo il nostro salvatore i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro Matteo 13 43 vedete come come ho detto prima il catechismo è composto quindi è una esplicitazione una razionalizzazione una spiegazione in forma sistematica e ordinata dei dati che ci vengono dalla liberazione ecco perché non si può mettere in discussione e perché nessuno dubitasse di questa promessa prosegue la confermò con l'esempio della sua trasfigurazione Matteo 17 2 perché Gesù si è trasfigurato davanti agli apostoli per far vedere come sarà il corpo glorificato questa dote l'apostolo la chiama ora gloria ora splendore riformerà dice il nostro corpo umile rassomigliandolo al corpo del suo splendore Filippesi 3.21 e di nuovo qui è seminato nella miseria sorgerà nella gloria la cei traduce si semina ignobile e risorge glorioso ma è la stessa cosa di questa gloria vide un'immagine il popolo di Israele nel deserto anche ricordate chi conosce un po' di storia sacra quando la faccia di Mosè di ritorno dal colloquio avuto con Dio sul sinero risplendeva talmente che i figli di Israele non vi potevano fissare gli occhi questo splendore è un fulgore speciale che viene al corpo dalla somma felicità dell'anima ed è come un riflesso della beatitudine di cui gode l'anima come la stessa anima diventa beata in quanto su di essa si posa una parte della felicità divina attenzione però non si creda però che tutti si abbelliscano di tal privilegio in ugual misura come del primo infatti tutti i corpi dei santi saranno impassibili ma non avranno un uguale splendore no e da cosa dipende questo cominciamo subito a a far funzionare i neuroni no da cosa dipende poiché come assicura l'apostolo infatti prima di di versetti che vi ho citato dice queste parole che adesso cita altro lo splendore del sole altro lo splendore della luna altro lo splendore delle stelle e ancora una stella riferisce dall'altra per lo splendore e così nella risurrezione dei morti qui sono evidentemente adombrati adormati ah adombrati i gradi differenti di gloria forse qualcuno pensa che la gloria che c'ha padre Pio sia come quella di uno che ha fatto una vita cristiana soppicante e che si è salvato dice la mia mamma per rotto della cuffia così si dice a Roma ma anche no certo pure quella impassibile impassibilità ma lo splendore no vogliamo 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 parlare dello splendore della Madonna chiamata dall'Apocalisse la donna vestita di sole lo splendore della Madonna è secondo soltanto a quello dell'umanità di nostro Signore Gesù Cristo e anni luce di distanza ci sarà del più grande glorificato dopo Maria tra gli esseri umani chi lo sa chi è che sarà un numero uno pure degli esseri umani io tifo e voto per San Giuseppe insomma poi al terzo posto ci sarà San Giovanni Battisti chi lo sa poi vedremo queste cose in paradiso ma guardate che c'è la c'è ci sarà il numero uno il numero due il numero tre e il numero che ne so 124.670 è così e questo lo decidiamo noi adesso lo decidiamo noi adesso io dico no amici capite com'è la vita cristiana e guardate che per salire in gloria ci devono essere le opere sante ci devono essere i sacrifici ci devono essere una vita di rinuncia una vita di preghiera una vita di iperattività nel bene è così avete visto i mondani pensate ai super ricconi guardate che c'è gente che c'è tanti di quei soldi che si è visto quando sono morti i personaggi eccellenti no cioè cioè se anche proprio vive proprio senza freni quindi si concede tutto e tutto e di più tutti gli sfizi e tutte le cose più costose più paulose possono stavare anfi di yacht jet privati che caspita ne so non ce la fa a finisse lì non li può finire è un pozzo infinito eh poi però un bel giorno te ne vai al cimitero brutto scemo che sei e allora ma non sarebbe meglio investire in gloria eterna cioè io penso che sia una cosa da persone più intelligenti no o no sbaglio la gloria è eterna non te la toglie più nessuno e comporta chiaramente un grado di gloria di splendore maggiore un godimento maggiore è così siamo così idioti da voler accontentarci delle briciole dell'altra vita avendo ricercato spasmodicamente le chimere di questa vita quale pazzia muoverebbe un essere umano che fa queste cose pazzia no da pazzi terza dote ma questa dote va congiunta quella che chiamano agilità sempre il testo di San Paolo no scusate che lo prendo si semina debole e risorge pieno di forza per cui il corpo sarà liberato dal peso che ora la fatica e con grandissima facilità potrà muoversi verso quella parte dove l'anima vorrà così che nulla potrà esservi di più cerere di quel movimento come insegnano apertamente Sant'Agostino nella città di Dio 13 18 20 e San Girolamo nel commento Esaia capitolo 40 perciò dice viene seminata una debolezza e la forza ci credete che i corpi ma purificati ma altro che velocità della della luce chi avesse qualche dubbio o volesse qualche approfondimento faccio un piccolo spot pubblicitario sperando che youtube non mi vada a fare in diretta io quando quando li becco qui in sovraimpressione sulla diretta li blocco subito purtroppo non si può affermare queste impostazioni anche su youtube ahimè ma quando la vedo in sovraimpressione la blocco io quando me la fa vedere e spot faccio io circo di catechesi su tenera amata andate a vedere a che velocità si muovono i corpi dei dei beati cioè capite che il corpo del beato partecipa dell'immensità di dio ricorderemo questi attributi speriamo no per la sua immensità noi diciamo e così è realmente che dio contestualmente simultaneamente è presente in cielo in terra e in ogni luogo attenzione oggi noi siamo nel 2024 non stiamo nel medioevo o anche ai tempi dell'antico testamento non ci vuole una grande cultura nella laurea in astrofisica cioè per renderci conto di alcune misure cioè soltanto la via latte che è una galassietta se tu parti fosse possibile costruire un'astronave che viaggiasse alla velocità della luce guardate che se un uomo ci si mette dentro un neonato e fa questo viaggio per tutta la vita mica esce dalla via latte viaggiando a 300.000 km al secondo non mi ricordo adesso il numero perché vedi un bellissimo documentario che c'era proprio il numero di quanti anni viaggiando alla velocità della luce ci vorrebbero per uscire dalla via latte ma di galassie ce ne sono miliardi ci rendiamo conto di chi è Dio presente in cielo interno in ogni luogo simultaneamente tutto sotto controllo e tutto sotto il suo potere io intanto va bene un pochino di ripassare come pensate l'essere umano che sarà una formica nei confronti dell'universo ma no una formica ma non è neanche un atomo sarà forse un elettrone ma nemmeno un elettrone ma nemmeno ancora bestemmia se uno potesse vedere la mostruosità di una cosa del genere è peccato il suicidio ma prenderebbe subito una gara di 38 e se la sparerebbe alla tempe è un atto talmente folle talmente assurdo se si hanno presente queste cose ovviamente di che cosa vogliamo parlare ultima dote a queste doti va aggiunta la sottilità o sottigliezza la quale pone il corpo completamente sotto l'impero dell'anima così da servirla con immediatezza come mostrano le parole dell'apostolo ci semino un corpo animale e esoggero un corpo spirituale questi sono quasi tutti i punti principali da illustrare la spiegazione dell'articolo può raggiungere due cose come vediamo queste cose nel corpo codificato di nostro signore San Paolo sempre nella prima lettera di Corinzi dice San Paolo apparsi a Pietro poi a Simone poi a Giacomo poi apparsi a più di 500 fratelli in una volta attenzione non è che erano 500 fratelli in una volta nel senso che c'erano 500 persone radunate e è apparso Gesù risorto no è apparso a più di 500 persone in contemporanea uno vedete che significa l'agilità in che senso l'agilità e la partecipazione nel corpo codificato dell'onipresenza di Dio che si definisce tecnicamente l'immensità poi la soggezione del corpo all'anima che significa il corpo glorificato di nostro Signore attraversare i muri non è una favola questo e peraltro lui in quanto Dio ha fatto in modo di passare i muri anche nella nascita perché lui è uscito fuori dal grembo di Maria non come escono gli altri ragazzini e non dalla parte dove escono gli altri ragazzini tanto per essere chiari ma ma dal grembo di Maria così come uscita al sepolcro mica ha arrotolata lui la pietra come ben spiegano i vangeli la pietra spiega il vangelo di Matteo l'hanno rotolata gli angeli per far vedere che la tomba era vuota ma Gesù non c'era bisogno di rotolare la pietra per uscire così come non ha avuto bisogno di aprire le porte per entrare dentro il cenacolo capito che cos'è la sottigliezza io adesso se voglio uscire dalla porta della casa mia te l'apri la porta se non sono sbattato al muro ma il corpo purificato non è così ok ultimo paragrafo si possiamo tutti salutare dell'articolo ma perché i fedeli sappiano quale frutto possono ricavare dalla conoscenza di sì numerosi grandi misteri si dovrà prima inculcare che dobbiamo ringraziare Dio il quale ha nascosto queste cose ai sapienti e le ha rivelate ai piccoli il Vangelo è sempre vero Dio ha nascosto queste cose ai sapienti e le ha rivelate ai piccoli cioè quanti uomini infatti illustri per prudenza o per singolare dottrina non furono completamente all'oscuro di questa attenzione verità così certa io non vorrei fare insomma il pedante o il gallinaccio verità così certa nessuno pensi che queste sono favole perché se lo pensa sbaglia di grosso questa è parola di Dio è rivelazione parentesi è apparso su tiktok che non mi hanno approvato il ricorso questa è una trasmissione per adulti magari nei commenti dopo ditemi se deve andare a confessare l'averla dunque Dio manifestata a noi che non potevamo aspirare a comprenderla ci deve fare eternamente lodare la sua benignità e clemenza in ginocchio dobbiamo metterci grati con il meditare quest'articolo coglieremo anche il grande frutto che nella morte di quanti per natura o benevolenza furono a noi congiunti potremo facilmente consolare se gli altri con le stesse consolazione di cui del resto si servì l'apostolo scrivendo ai tessalonicesi e intorno ai defunti se uno si crede chiaramente a queste cose alle doti dei corpi glorificati come abbiamo ascoltato questa sera ma anche in tutti gli altri affanni e disgrazie il pensiero della futura risurrezione ci darà gran sollievo nel dolore dobbiamo pensarci a queste cose e ricordiamo il santo Giobbe il quale sollevava l'animo afflitto e addolorato con questa sola speranza che avrebbe finalmente potuto contemplare nella risurrezione Dio suo Signore nuova citazione della sacra scrittura Giobbe 19 26 oltre a ciò questo pensiero sarà molto efficace nel persuadere i fedeli a mettere ogni dirigenza nel menare una vita retta integra pura da ogni macchia di peccato se infatti penseranno che le immense ricchezze successive alla risurrezione sono preparate per loro facilmente si innamoreranno della virtù e della pietà cioè amici detto proprio in soldoni la vita cristiana è bella ma impegnativa è uno è lecito che si chieda sì ma io mi privo di questo 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 e quest'altro faccio questo sforzo quest'altro quest'altro e quest'altro faccio questo sacrificio quest'altro ma che ci guadagno solo croci solo tribolazioni san paolo altrove scrive guardate che se abbiamo sperato in chiuso soltanto in questa vita siamo da compiangere più di tutti gli altri uomini prendi la famosa calibra 38 spara dalla tempia d'accordo perché cioè la vita cristiana è bella però non è un un sentiero scosceso in discesa tranquillo no è una salita erta faticosa a volte non poco e noi dobbiamo pensarci a queste cose Santa Gemma che chi vede il video la vede alle mie spalle dici da sempre tanto è grande il ben caspetto che ogni pena mi è diletto le filastrocchette sante dei santi ma è la verità d'altro canto nessuna cosa potrà avere maggiore efficacia a sedare le passioni dell'animo e a ritrarre gli uomini dal peccato che a monirli spesso di quali mali e dolori saranno colpiti i cattivi che nell'ultimo giorno andranno alla risurrezione del giudizio anche a questo bisogna pensarci io ho cercato di farci pensare questa sera allora di tutte queste cose qual è l'unica cosa che i dannati hanno di tutte le cose che abbiamo meditato l'unica hanno l'agilità no hanno la sottigliezza no hanno lo splendore no hanno l'impassibilità no hanno solo l'incorruttibilità non possono più morire perché per tutta l'eternità soffriranno anche nel corpo risorto ma voi immaginate cioè io io ci penso ogni tanto questo la Madonna Fatima ci ha insegnato a dire preservaci dal fuoco dell'inferno ma vi immaginate una persona che si ritrova dannata io durante le veglie di preghiera del sabato ho letto un po' di tempo fa ci sono chiaramente i video in giro su youtube i podcast la testimonianza la testimonianza di Anna e Clara di quella ragazza nel secolo scorso quella c'è l'imprimatur morta si è dannata ed è andata a raccontarla all'amica sto leggendo durante le veglie sta ancora in corso un altro testo agghiacciante tutte quante permissioni divine o meglio forse proprio doni divini per farci difettere un po' l'esorcismo di Verdicare Garandier Verdicare è un prete dannato che per volontà di Dio ha spiegato la sua condizione e come ha fatto a dannarsi c'è anche il ciclo di catechesi che ho fatto alle porte dell'inferno su Gloria Polo Gloria Polo è viva non si è dannata per una grazia di Dio ma nella sua esperienza di tutto straordinaria ha visto e ha capito che se fosse morta quando il fulmine l'ha colpito sarebbe andata all'inferno e il nostro Signore gliela ha fatto vedere molto bene che cos'era bisogna a mio viso leggere quanto meno non voglio ascoltare il ciclo di carichesi pazienza ma la testimonianza di Gloria Polo bisogna leggerla perché è attendibile al 100% quella cosa lì 100% non un 80% 100% chiaramente il Signore ci manda tutte queste cose per sollecitarci perché noi siamo liberi il Signore ci dà gli aiuti ma non decide al posto nostro no o non ci forza e non ci porta in paradiso per forza affatto tocca a noi ecco speriamo che questo articolo in questa sua parte conclusiva abbia avuto modo di far riflettere i buoni perché diventano ancora più buoni e i cattivi perché ci pensino bene prima di perseverare su strade che li portano alla rovina eterna da cui non sarà possibile in nessun modo sfuggire o scampare il tempo per pensarci è adesso non dopo quando sarà troppo tardi benedica la santa mergine e la santa ipotegge siamo dati Gesù e Maria grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti